Si sono avvarsi della facoltà di non rispondere. Questa mattina durante l'udienza di convalida davanti al GIP Elena Ceriotti, Luigi Russo, 43 anni, assistito dall'avvocato Sabrina Cane, deve rispondere di reati gravissimi, produzione e detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minore. A casa sua infatti sul pc e sul telefono c'erano diversi video e foto, alcuni realizzati dall'uomo in prima persona. Non meno grave l'accusa che grava sulla madre dell'undicenne, trovata in auto con lui dai carabinieri sabato notte, prostituzione minorile. Russo, di origini torinesi, a precedenti specifici, era stato arrestato a Moncaglieri nel 2010 per detenzione di materiale pedopornografico. Dopo aver scontato una pena in carcere a Verbagna, si era fermato a Pallanza, dove viveva ormai da tempo. La donna torinese è stata assistita per oggi dall'avvocato Cane, ma ha già nominato un proprio legale di fiducia. Per lei, detenuta a Vercelli, l'avvocato ha chiesto la scarcerazione, mentre per Russo si è riservata di valutare prossimamente le mosse da adottare. La vicenda ha sconvolto il verbano. L'uomo ospitava a casa sua la bambina da alcuni giorni, conosceva la famiglia da tempo. Tutto è venuto alla luce grazie ai carabinieri di Stresa, che sabato notte hanno fermato per un controllo l'auto dell'uomo che viaggiava molto lentamente. A bordo c'era la bambina, hanno capito che qualcosa non funzionava e hanno deciso di approfondire scoprendo una vicenda di orrore.